Allora, innanzitutto grazie per la chiarezza, sono temi molto anche tecnici, non tutti hanno magari il know-how giusto per comprenderli, ma tu sei stato molto chiaro e molto esaustivo. Io prima di lasciare la parola a eventuali domande, ti chiederei proprio 5-10 minuti ancora, perché nel preparare un po' la serata mi sono balzata agli occhi delle parole che da qualche anno il governo, nei suoi provvedimenti, non aveva proprio a cuore. Una era, l'hai già affrontata, è quella dell'area del bisogno, l'altra è quella della cultura. Insieme, mi è saltata all'occhio anche la parola sicurezza e per mio interesse, diciamo, personale, anche terra dei fuochi. È una tematica di cui tanto si parla, ma poco si sa. E credo per la prima volta, ma coraggimi se sbaglio, questa parola viene inserita in una legge di stabilità. Quindi, ripeto, prima di lasciare assolutamente la parola a chi vuole fare una domanda o un intervento, ti chiederei un focus molto benissimo.